Garantire la sicurezza dei corridori e del pubblico è l'obiettivo di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione delle due tappe lucane del Giro d'Italia. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, riunito in Prefettura Potenza, ha concentrato la sua attenzione sulla manutenzione del tracciato, che verrà percorso dalla Carovana Rosa. La notizia più importante è il colpo d'acceleratore impresso ai lavori sul tratto della Provinciale 14 Bellese, interrotto da qualche settimana a causa di una frana. La provincia di Potenza realizzerà delle opere provvisorie, una sorta di bypass per consentire non solo il passaggio della Carovana Rosa, previsto il 9 maggio, ma anche il ripristino della circolazione al traffico di automobili e bus, con senso unico alternato. È un obiettivo, ma anche una corsa contro il tempo, visto che i fondi potranno essere utilizzati solo dopo il 18 aprile, quando sarà approvato il bilancio dell'ente. Dovrebbe quindi essere interamente confermato il percorso che interessa 15 comuni lucani, tra cui Melfi, sede d'arrivo della terza tappa, che parte da Vasto l'8 maggio, e Venosa, dove il giorno successivo sarà ospitata la partenza del quarto capitolo del Giro, con epilogo al Lago Laceno. Nel corso della riunione, convocata nella prefettura del capoluogo, gli enti gestori delle strade, ANAS, provincia e sindaci, hanno fatto il punto sugli interventi già compiuti e sulle attività di manutenzione ancora da effettuare. L'interesse di tutti, ha spiegato il prefetto Michele Campanaro, è garantire la massima sicurezza sia per gli atleti sia per il pubblico.